Leggero rialzo per i ricoveri e le terapie intensive nel bollettino Covid delle ultime 24 ore. Ci sono infatti quattro nuovi accessi nei reparti Covid e uno in terapia intensiva. Dunque complessivamente sono 676 pazienti ricoverati in terapia non intensiva, di cui 72 sono in terapia intensiva. Leggero rialzo anche per i nuovi pazienti colpiti da SARS-CoV-2, 623 emersi dall'analisi di 4.685 tamponi con una percentuale di campioni positivi del 13,3%, circa due punti sopra il minimo di novembre toccato ieri con l'11,4%. I positivi con età inferiori a 19 anni sono 97, in prevalenza nella fascia costiera. Purtroppo continua a salire il bilancio delle vittime, 9 nelle ultime ore di età compresa fra i 70 e i 92 anni. Da inizio emergenza siamo a quota 831 decessi. Crescono, unica buona notizia di giornata, i dimessi e i guariti più 238 per un totale di 7.852. Gli attualmente positivi sono 17.032 più 376 rispetto a ieri. Fin qui i numeri dell'emergenza in corso e dello sforzo dei sanitari negli ospedali per cercare di curare i malati. Sul fronte delle iniziative di prevenzione, invece, la Regione Abruzzo, sulla scorta di un accordo nazionale, ha perfezionato l'intesa con i medici di medicina generale che eseguiranno, a partire dai prossimi giorni, i test antigenici rapidi nei propri ambulatori o nelle sedi che verranno indicate dalle ASL. Saranno garantite le turnazioni dei medici, dalle ore 8 alle 20, dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 13 il giorno del sabato. Gli accessi da parte degli assistiti saranno regolamentati dai medici attraverso prenotazione solo dopo triage telefonico. Le ASL, oltre ai kit per l'effettuazione dei test, si occuperanno anche della fornitura dei dispositivi di protezione individuale per i sanitari. I risultati saranno registrati su un sistema informatico di tracciamento. In caso di esito positivo del test antigenico verrà disposto l'isolamento domiciliare del paziente e il successivo tampone molecolare di conferma. I medici riceveranno per ogni esame un compenso pari a 18 euro, se effettuato nel proprio studio oppure a domicilio, e di 12 euro per quelli eseguiti nelle strutture ASL. E per aumentare ulteriormente la capacità di testing della regione Abruzzo per contrastare il Covid-19, dai prossimi giorni tutti i laboratori analisi pubblici e privati potranno eseguire i test sierologici quantitativi e i test antigenici sulle categorie di cittadini definite a rischio e contenute in un documento recepito in una nuova ordinanza del Presidente della Regione. Per accedere al test basterà semplicemente esibire una autocertificazione. I test sierologici saranno gratuiti per operatori sanitari, forze dell'ordine, genitori di studenti di età compresa, fra i 0 e i 18 anni e maggiorenni se frequentanti scuola secondaria di secondo ciclo, gli studenti stessi, i loro fratelli e le sorelle, nonché eventuali ulteriori familiari conviventi. Sono beneficiari inoltre le persone che frequentano corsi universitari aventi l'assistenza sanitaria di base in Regione, nonché le donne e i bambini presi in carico dai centri antiviolenza e dalle case rifugio. Tutti coloro non compresi in queste categorie potranno comunque sottoporsi a pagamento ai test.